La tematica effettivamente è sempre più sentita perché gli episodi di bullismo ormai si moltiplicano di giorno in giorno. Questa iniziativa del Corecom Campania che ringraziamo appunto per averci offerto questa bella occasione di incontro con le scolaresche, di riflessione condivisa, si aggiunge alle iniziative che la scuola pone in essere ormai da anni su questa tematica. Quindi attualmente facciamo parte della rete delle scuole campane che attivano attività di formazione per gli insegnanti per prevenire il fenomeno del bullismo.